adesso passiamo alle pentatoniche pentatonica quindi rimanendo in tema di sol quindi praticamente sol maggiore pentatonica abbiamo primo grado secondo grado terzo quinto grado e sesto questa è la pentatonica maggiore di sol quindi so la si discorso che abbiamo fatto prima prima sezione di mani quindi dalla nota solda la tonica poi partiamo dal secondo grado la quindi secondo box se seconda sezione di manico dal sì da re da mi e poi di nota al sol anche qui la scala pentatonica volendo la possiamo suonare armonizzata ovviamente con le note della pentatonica quindi abbiamo solsi dove la abbiamo il re ovviamente vedremo che a volte abbiamo delle terze abbiamo le quarte 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 terze quarta 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 ok ovviamente possiamo anche suonare altre armonizzazioni quindi non sulla seconda nota della pentatonica quindi prima terza seconda quarta ma anche fare prima due quattro quindi praticamente suonare la prima e la quarta nota quindi praticamente avremo salti di quinta sesta 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 minore questo intervallo grazie a tutti altra armonizzazione potremmo andare anziché al 1 2 3 4 alla quarta nota alla quinta ne abbiamo questa quinta nota quinta nota quindi allora vi faccio un esempio adesso dove vi faccio ascoltare con un basso di mi pedale alcune note prese estratte dalla pentatonica e quindi da queste armonizzazioni che abbiamo appena visto grazie